allora oggi proviamo la maionese vegana facciamo così mettiamo un bicchierino di latte di soia non zuccherato in un contenitore poi un bicchierino di olio di semi di girasole e un bicchierino di olio extravergine di oliva per renderla un po un po più densa poi mettiamo se ce l'avete fresco meglio limone fresco un cucchiaino di limone se vi piace di più io ne metto un altro po di limone un cucchiaino di senape un pizzico di sale poi prendiamo il mini peamer e frulliamo dall'alto verso il basso la 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 E la maionese è pronta. Ok, poi la mettiamo in frigo così si addensa, senza uova, buona.